L'anima prossima avrà in banchina Elk Jan Held, olandese classe 1967 fino a novembre, secondo allenatore della nazionale olandese, due anni fa anche allenatore della Pre-Junioris. Sono contento di presentare il nostro nuovo primo allenatore, afferma entusiasta il presidente del club Umbro Claudio Schurpa. Sono sicuro che abbiamo trovato una persona nel cui sangue scorrono globuli bianco-azzurri. Ha avuto la fortuna di apprezzare Elk Held come atleta, ha giocato infatti a Perugia nella stagione 2004-2005, ma sono certo che non deluderà neanche da tecnico. Quindi daremo fiducia ad una persona dalle doti eccezionali. Queste le dichiarazioni del presidente Claudio Schurpa. Held ricordiamo che guiderà la Energy Resource San Giustino già dalla difficile partita di domenica prossima contro la prima della classe, la Itas Diatek Trentino, ospite al Palachemon.